I consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri contestano il documento di economia e finanza regionale 2018-2020. Secondo i rappresentanti del gruppo regionale di Forza Italia, si tratta di un documento vuoto nei contenuti, che parte dall'analisi di dati che non trovano riscontro nella realtà. L'Abruzzo è in condo tendenza rispetto ad una crescita nazionale e soprattutto alla crescita del mezzogiorno che sta andando avanti. E questo in termini di prodotto interno lordo, di occupazione, di disoccupazione. Insomma, in tutti i settori abbiamo dei segni che sono diversi da quelli che ci vengono elencati. Ma soprattutto credo che le motivazioni di questi segnali, la prima in assoluto, perché gli unici fondi che ci sono disponibili, veri, reali, sul bilancio regionale, sono i fondi comunitari. E fondi comunitari che purtroppo non vengono spesi. Poi non aggangiamo la ripresa a quelli che sono gli strumenti che vengono oggi indicati dai maggiori economisti, europei e nazionali, che sono le famose zone ZES, zone economicamente speciali, che stanno applicando in tutta Europa, soprattutto in quelle zone dove c'è difficoltà. Si fanno convegni, si fanno incontri, si fa nascere la conflittualità tra alcuni territori come Vasto e come Ortona. E poi non Maurofebbo, non Forza Italia, ma il Sole 24 Ore, quindi un giornale indipendente, denuncia che l'unica regione che non presenta il progetto è la regione Abruzzo. Così come si continua a parlare, ma senza poi entrare nel merito, di fare quelle norme che i cittadini vogliono, cioè la sburocratizzazione degli atti amministrativi, siamo ancora carissimi, perché c'è una delibera del settembre 2014 che è stata bocciata dal Consiglio regionale, che viene riproposta e non andrà mai avanti. Noi abbiamo finalmente avuto il riconoscimento per quanto riguarda la fira che potrà agire come banca regionale, ma non si capisce se la fira rimane in piedi, se verrà chiusa, se verrà portata in auso. Noi vorremmo che questo governo regionale alla fine ci riconsegnasse, perché noi vingeremo le prossime elezioni regionali, un Abruzzo non malato come oggi lo è.